Presidente Giacalone, una vittoria senza sé e senza ma. 3-0 contro Don Carlo Misilmeri, una bella prestazione, una squadra che ha giocato bene in tutti i reparti, golle di ottima fattura, insomma continua la corsa verso i play-off della Mazzarese. Una domanda che già racchiude una risposta esaustiva. Io mi addentrerò in maniera sintetica per far capire come si è costruita questa vittoria. Io credo che questa sia una grande vittoria che è figlia della pessima sconfitta fatta con Marsala. In quel momento abbiamo raggiunto il punto più basso del morale, siamo stati bravi, siamo stati solidali l'un con l'altro, ci siamo capiti, abbiamo litigato, abbiamo messo in campo idee convergenti, a volte divergenti, ma abbiamo fatto diventare la Mazzarese un tutt'uno. Quindi io mi limito esclusivamente, il mister Iacola ha già fatto l'analisi tecnica, a fare dei ringraziamenti. Oggi il pubblico ci ha emozionato. Oggi i giocatori mi hanno emozionato. Credo che abbiamo emozionato anche gli sponsor che erano quasi tutti presenti al Nino Vaccara e hanno avuto modo di comprendere meglio dal vivo cosa stiamo facendo. Per quanto vi riguarda vorrei chiudere questa intervista ringraziando la mia famiglia che su quello che io ho sempre fatto sia nelle attività imprenditoriali sia anche nell'attività ludica, in questo caso la SC Mazzarese mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre supportato. E se oggi la Mazzarese ha regalato questa pagina straordinaria per la città, permettetemi di ringraziare la mia famiglia che sotto questo punto di vista mi rende forte in tutto quello che io faccio. Quindi è ovvio che voglio condividere tutto con gli sponsor, voglio condividere tutto con gli sportivi, voglio condividere tutto con tutti perché quando si realizza un miracolo del genere non lo si fa da soli. Però non l'ho mai fatto in questo percorso della Mazzarese, ma vi assicuro ci sono stati momenti dove ho dovuto fare l'appello a tutta la mia capacità di tolleranza. Ho fatto un po' il testitore assieme ai miei amici che mi hanno sostenuto a titolo gratuito, ritengo che sia doveroso ringraziare la mia famiglia che mi dà questa forza e quindi spero che continuerò a darmela e poter assieme a tanti altri scrivere pagine importanti dello sport e del calcio a Mazzare.